Si svolgerà giovedì prossimo il tavolo di concertazione tra amministrazione e commercianti Teramani, un incontro fissato dal primo cittadino dopo la protesta sollevata dai titolari dei pubblici esercizi che verte sulla riduzione della Tares, sul blocco delle licenze e sulla regolamentazione della ZTL in centro storico. A pochi giorni dall'incontro abbiamo ascoltato l'assessore al commercio Marco Tancredi. Le proposte che mettiamo in campo con i commercianti, io l'ho già detto stamattina, sono quelle che l'amministrazione può essere un vettore di opportunità per il commercio, noi non possiamo risolvere direttamente i problemi del commercio. Poi vorrei fare un piccolo appunto alle associazioni di categoria perché giovedì ne parleremo probabilmente, l'ho detto anche stamattina, il commercio a Teramo non è solo centro storico, il commercio a Teramo è anche stazione, è Cona, è via Crucioli, è via Lebovio, sono le frazioni, è il centro commerciale, quindi voglio dire mi sembra che le istanze delle associazioni di categoria di Teramo vengano soprattutto valorizzate quelle del centro storico che sono importantissime e noi per il centro storico abbiamo fatto e faremo tanto, la prima cosa fra poco abbiamo 3 milioni e 800 mila euro per la riqualificazione dei due corsi. Per quanto riguarda i parcheggi, perdonatemi, mi sembra una polemica sterile e la riapertura dei varchi, io vorrei chiedere ai commercianti se riaprissimo i varchi a Teramo, le macchine che entrano, che dovessero entrate, dove vanno a parcheggiare? Nel comunicato ufficiale dei commercianti c'è la richiesta di una regolamentazione della ZTL, non una richiesta di apertura? Sì, la regolamentazione naturalmente in questo momento c'è un periodo di latenza, ma non perché è una nostra responsabilità, perché la legge ci dice che quando installiamo i varchi poi c'è un periodo di sperimentazione in cui non possiamo fare le sanzioni e quindi poi ripartirà con la regolamentazione che ci siamo dati sugli orari d'apertura. Se poi invece i commercianti parlano di regolamentazione per l'apertura dei varchi in orari commerciali, chiamiamoli così, cioè di apertura delle attività commerciali, mi sembra improbabile che noi possiamo pensare di riaprire la ZTL negli orari commerciali, che sono gli orari diurni.